Ciao a tutti e benvenuti! Oggi siamo qui per parlarvi dei giochi gratuiti in arrivo per gli abbonati a Xbox Live Gold e Xbox Game Pass Ultimate di febbraio 2022. Questo mese avremo quattro giochi, due titoli Xbox One e due di Xbox 360, tutti compatibili con le attuali console Xbox. Ma iniziamo subito! Dal primo febbraio fino al 28 arriverà Broken Sword 5, La maledizione del serpente, avventura grafica punta e clicca della serie Broken Sword. Le vicende ruotano attorno a un misterioso dipinto. Durante una mostra, dove sono presenti anche i nostri due protagonisti, un malvivente farà irruzione rubando il quadro e commettendo un omicidio. Sarà a noi darvi alle indagini per incastrare il colpevole. Secondo titolo disponibile dal 16 febbraio fino al 15 marzo è Aerial Nights Never Yield, endless runner strutturato in modo classico, dove appunto bisognerà correre, saltare e ovviamente evitare di morire. Terzo gioco disponibile dal primo al 15 febbraio è Hydrofobia, avventura di sopravvivenza dove controlleremo Kate, un ingegnere che in questa storia diventerà un eroe cercando di fermare un gruppo di terroristi che ha preso possesso di una supernave da crociera. Tuttavia, la nostra protagonista è idrofobica, il che la porterà ad affrontare diverse situazioni da incubo nel corso dell'avventura. Infine, dal 16 febbraio al 28 febbraio abbiamo Band of Bugs, gioco tattico a turni incentrato su battaglie tra gruppi di insetti antropomorfi. Il gioco offre un editor dei livelli, una modalità campagna e anche una modalità multiplayer, sia in locale che online. Cosa ne pensate di questi giochi gratuiti per il mese di febbraio 2022? Siete soddisfatti oppure no? Fatecelo sapere con un commento e se il video vi è piaciuto vi invitiamo a lasciare un like, a condividere e ovviamente iscrivervi al canale. Alla prossima!